Ciao a tutti ragazzi, sono Shink Emmatrice e benvenuti nel canale di Spazio Games. Questo è un video un po' particolare in quanto in questa piccola nuova rubrica andremo a fare delle guide al platino e partiremo con il countdown mode, cioè abbiamo del tempo limite per completare ogni episodio e quindi dovremo correre nel più velocemente tempo possibile. Quindi eviteremo tutto quello non necessario e cercheremo di andare dritto al punto. Vi faccio questa guida per chiunque vorrebbe platinarlo e ha qualche difficoltà con il tempo. Ovviamente non commenterò tutto il video perché sarebbe pure una distrazione per chi vorrebbe farlo, quindi abbiamo deciso insieme alle altre spere di Spazio Games e anzi penso io pure da videogiocatore che sia meglio fare un video in cui ci sia solo la parte giocata. Comunque sia se vi piace l'idea volete che continui a fare questi video su come si fa il countdown mode, come si fanno i nemici invisibili e dove sono tutte le medaglie posizionate per poter arrivare al platino, basta scriverlo nei commenti, mettete un bel like ovviamente se vi è piaciuto il video e ringrazio a tutti quelli che fanno crescere il canale di Spazio Games. Quindi vi do un caloroso saluto e ci vediamo al prossimo video, mi raccomando fateci sapere la vostra. L'hai sentito? questo potrebbe servire. Meno male che funziona. dovremmo potremmo riuscire a passare sotto. Dammi una mano, mamma mia. Vai! Ok. Attenta, stai indietro. 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 oh merda la ucciderà andiamo presto gli occhi della bestia dobbiamo riuscire a proseguire che razza di farsoide farebbe qui forza ti abbi ok ci sono ok ce l'abbiamo fatta la chiave è laggiù questo posto puzza merda la chiave non c'è la chiave si deve essere staccata con la caduta può essere ovunque è troppo buio illumina qui intorno Claire vedo la chiave è fuori portata provo a farla cadere sparandole attenta lascia perdere scappiamo quando finirà tutto questo torniamo il tuo piano in 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 Ti serve una pistola. Scusa, l'avevo scordato. Magari troviamo qualcos'altro. No, sarò l'addetta alla torcia o cose così, è meglio. Perfetto. Un'arma contundente. Questa fa il caso mio. Claire, l'hai visto, non è vero? Sì, ho visto qualcosa. Cosa? Temi ciò che ti farai. E ne vieni ciò che temi. Cosa? E chi cazzo... Questi braccialetti cambiano colore in base alla paura. E tu di preciso chi saresti? Così tanta sofferenza. Non sapete ancora di cosa aver paura. Parlando a noi o a se stessa? Sembra comoda. Dovremmo comprarne una. Guarda questo affare. C'è incastrato qualcosa. Claire, di qua! Forse una volta fuori troveremo chi ci aiuterà. Cerchiamo di non correre troppo. Perfetto! Perfetto! Quello! Perfetto! Perfetto! Buongiorno! Perfetto! Perfetto! Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.